Ogni casa racconta una storia, in essa si scrivono tutte le pagine degli avvenimenti più intimi delle persone che ci vivono. La casa è sinonimo di accoglienza, tanto che a ridarla, a vestirla secondo gusti e tendenze diventa sempre più importante, non solo quando si arriva all'altare, ma semplicemente per dare un tocco in più ai luoghi di vita, creando accostamenti, luminosità e atmosfere molto suggestive. La competenza e l'esperienza guidano nel suo lavoro Francesca Di Palma, giovane architetto di Larino, che da qualche giorno ha aperto un atelier di interni in via Corsica a Termoli. Il cliente può iniziare dal scegliere la tipologia di mobile, poi che viene realizzato su misura, quindi per quanto riguarda la cucina, i soggiorni, camera da letto e ogni ambiente della casa. Dopodiché si può passare anche a un lavoro di tappezzeria, di realizzazione di tende su misura, di abbinamenti tessili nella zona letto, nella zona cucina, quindi partendo dal mobile e poi arrivando con il tessile a vestire ogni ambiente proprio della casa. Una sfida, quella di Francesca, che si avvale dell'intesa con la Busatti, storica azienda artigianale di tessuti, un progetto legato al territorio in cui è nata e vive, tanto che in collaborazione con la soprintendenza ai beni culturali del Molise è nata anche la linea Tessere in Frentania. Questa è un semplice canovaccio in cui la parte centrale è stata ripresa a questo pavimento del mosaico del leone, che è un mosaico presente nel nostro palazzo ducale di Larino, un mosaico del secondo secolo dopo Cristo, e come fascia è stata inserita il particolare della lupa, un simbolo della nostra Larino. Ho avuto anche dei contatti da dei paesi qui vicino e l'idea probabilmente si riproporrà.